Arca puttà, arca puttà, tà, 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 ben non salta, è della Lazio, wow, e benvenuti a nuova puntata di 94%, 94%, 94%, per farlo anche smettere, perché è da prima del video che sta facendo questo, volevo salutare il famosissimo Luca Burgix, che ha messo il like alla mia foto, non seguitemi su Instagram, anzi toglietemi il follow, grazie, però seguitemi che la prossima volta vi saluto io, Oggi siamo sul 94% Dove eravamo arrivati? Dovemmo fare il livello 9 Strumenti a corda Chitarra Facula la chitarra Arpa Arpa Violino Violino Violoncello Viola Va bene Violoncello Violoncello Limoncello Ukulele U Eh no aspetta prima il mandolino Ukulele 8% non penso sia ukulele Comunque La paralaia Corruttore Basso Giusto E l'un per cento Non era divertente Adesso ci sta a corda Contrabbasso Olè Contrabbasso Vai così Subito L'abbiamo finita subito questa Incredibile E' amaro L'amaro Il cuore Giusto Caffè Caffè Poi La sborra Se non bevi molto zucchero E' amara Che cazzo è amaro? Ne hanno detto C'è qualcosa che è amaro Il limone No però il limone è aspro Vabbè Allora sale C'è il sale salato Sale amaro Che c'entra? Che cazzo ne so Cazzo c'è stava una cosa C'è tanta cosa che è amaro Canna Perfumo o un altro? Chinotto Un per cento Eeeh che altro è? Amaro C'è c'entra? C'è c'entra? C'è c'entra ne è amaro Amaro Eh Cazzo è amaro Ah il cacao è amaro cazzo Il cacao Il cacao Il cacao E poi L'ultima non la so Ah eeeh Cazzo le verdure Ci stanno verdure amare? Tutte le verdure di mare La pieta Gli asparagi Radicchio Pfff Radicchio Radicchio Ah vabbè sì E' che questo qua è finito Adesso andiamo qua Ok Eeeh Virus No DNA Eh Microscopio Genetica Genetica Blu Virus Magari la gente è stupida Non sa che non è un virus No Sono stupide Virale Elica Doppia elica Doppia elica Già l'hanno messo Io ho andato davanti Che so che era spirale Cellula Cellule Cellule Esplorando il corpo Umano Corpo E Cuore i muscoli Ai polmoni Che spettacolo Mamma mia quanto era bello quel cartone Con una cifra Livello 9 è finito? Regà incredibile Fantastico C'è Creature immaginarie Grifone Eeeh Come si chiama? Fenice Orco Oh che cazzo è? Gigante Drago Bigfoot Drago Drago ci sta Drago Oh grazie Scusa ma credo di immaginare L'avamo detto tutti Leocorno Supercabra Leocorno Unicorno Trovamo tutte le grazie dei Warcraft Elfo Mago Shen Mago Drago Come drago? La strega Le mezzanotte Sbam Fata Io vedo sempre come versione buona e versione cattiva Affate Affate schifo Minorenni Oh Minotauro Grande che hai detto Minorenni Dici che è Minotauro Non c'è zombie C'è sta Minotauro Minoturo Minoturo Minotauro Olè Ma vaffanculo Era Minotauro Grande che mi ha detto Minorenni Cose che si portano ad un picnic Cibo Cibo Bevande Tovaglia Cestino Io qua finisco Erba Posate Erba Fumo Canne Arcol La droga La droga La droga Perché schimichi Le carte Qualcosa per giocare Perché le carte del cibo Che devi mangi le carte Carte supporta un picnic Falò Dovania E poi bruci tutto Il fuoco Oh Bevande Ho detto Il fuoco Bevande Vabbè 1 1 1 Io chiedo un aiuto Bicchieri Bicchiere Bicchiere Bicchieri Bicchiera Sono ciamoncino Bicchiera Vabbè Vieni piatti Prova i piatti Ok Manca solo questa qua Che chiederemo l'aiuto Andrea Porto Andrea Amici Amici come diciamo Pompini Tazza Caffè Latti Caffè Caffè Latte e tè Latte e tè Colazione Colazione Donna Mani Unghie Unghie Bianco Nail art Bianco Un po' bianco Caldo Bocca Caldo e freddo Cioccolata Maglione Maglione Oh Completamente a caso Caffè Si vede un pezzettino Di maglione Ok allora Stretta Infame Infame Trust No one Mani Penna Cavolo Mani Leggi qua Giusto Castiera È scritto stretta Foglio Intesa Accordo Finito pure il livello 11 Oggi è andata più liscia Delle altre volte Siamo cominciando ad ingranare Su questo gioco Vai Comunque siamo a livello Siamo a livello 12 Dobbiamo arrivare qua A 55 Quindi ancora La strada è lunga Eh già Lasciamo 5000 like Per questo video E ci sarà un prossimo episodio Di 94% Come sempre Vi ricordo che Ha 20.000 followers Sui facebook Sul mio facebook privato Io mi taglierò La barba Lui si taglierà La boccia E faremo un video Dove lui si taglierà La boccia Si taglierà i capelli Si farà la boccia Io mi taglierò la barba Perciò ragazzi Lasciami like Seguiteci su instagram Sul profilo privato E niente Vi saluto Ciao